Nuova Delhi è ancora in lockdown, ma stavolta a indurre le autorità della capitale indiana, a disporre la chiusura delle scuole e lo smart working per tutti i dipendenti pubblici, è lo smog. I livelli di inquinamento atmosferico hanno raggiunto valori record in tutta la regione di Delhi e le restrizioni sono state adottate per tutelare la salute della popolazione, visto l'aumento vertiginoso di patologie respiratorie registrato anche in ambito pediatrico. Il tutto proprio all'indomani della brusca frenata effettuata dal paese asiatico alla COP26 di Glasgow, con il passo indietro chiesto da India e Cina al resto del mondo sull'abbandono del carbone. La megalopoli New Delhi soffoca come ogni anno a causa di sfavorevoli condizioni meteo e dell'azione dei contadini che bruciano i residui del raccolto in questa stagione. I fumi della combustione restano intrappolati nell'aria, peggiorandone nettamente la qualità. Per arginare l'inquinamento da polveri sottili, il governo della capitale ha anche bloccato per qualche giorno l'accesso in città dei mezzi pesanti non coinvolti nei servizi essenziali. Tutti i residenti sono invitati a spostarsi utilizzando il più possibile i mezzi pubblici. Nelle prossime ore il numero di autobus verrà potenziato con mille pullman a metano noleggiati da privati. I meteorologi hanno indicato la data del 21 novembre come possibile spartiacque per l'arrivo di venti che favorirebbero la pulizia dell'aria, altrimenti potrebbero essere imposte restrizioni più dure.